Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi iniziamo un pochettino a parlare di quella che sarà la sfida di sabato, perché bene o male ci siamo, sta arrivando, possiamo dirlo a gran voce. Domani sarà già giorno di vigilia, oggi avremo anche la conferenza stampa di presentazione di Nico Gonzalez, quindi se ci saranno degli aggiornamenti o comunque delle cose di cui discuterlo faremo nel pomeriggio, però io vorrei iniziare già a parlare appunto di Juventus-Napoli, perché sono già lì, perché è una partita per me molto importante, perché Antonio Conte è la prima volta che torna all'Allianz Stadium, perché il Napoli è un avversario che negli ultimi anni ci ha praticamente sempre battuto, se non in occasione di qualche pareggio o dell'unica vittoria che mi ricordo recente, cioè 1-0 gol di Gatti, e perché il Napoli comunque è una delle squadre che ha vinto lo scudetto recentemente, un paio di anni fa, noi invece veniamo da tanti anni senza trionfi, da questo punto di vista si è un po' invertito il mondo, e quindi vorrei cercare anche di iniziare ad affrontare quella che per me è la prima vera grande pretendente al titolo che andiamo ad incontrare, perché con tutto il rispetto della Roma e di tutti i casini societari che hanno avuto in questi giorni, non l'ho mai vista come una vera pretendente al titolo, sapete che per me la Roma sarà una squadra a sesto posto, il Napoli di Conte invece è una di quelle squadre che non mi stupirei di vedere campione in Italia al termine della stagione insieme alla Juventus e all'Inter. Queste sono le tre squadre che secondo me possano vincere lo scudetto, poi per quanto mi riguarda l'Inter è quella più avanti di tutte, Juve e Napoli hanno iniziato questo nuovo ciclo, c'è anche da dire che proprio come noi il Napoli non ha ancora affrontato chissà quale tipo di squadra, chissà quale tipo di big hanno affrontato il Parma, l'Ellas, il Caglian, insomma tante squadre possiamo definirle con tutto il rispetto possibile provinciali, noi abbiamo affrontato la Roma se vogliamo come gradino un po' più alto, ma bene o male siamo lì dal punto di vista del livello delle squadre affrontate. E allora ho cercato un attimino di recuperare anche alcuni pezzi della partita con il Cagliari da parte del Napoli, principalmente oltre a tutti gli ice dei gol che va bene lasciano il tempo che trovano, mi sono recuperato i primi 20-25 minuti della partita, perché secondo me sono quelli lì i minuti che ti fanno capire che tipo di gara hanno in mente gli allenatori, poi non significa che in quei 20 minuti vedremo il riassunto della partita, tant'è che la Juventus di Tiago Motta nei primi 20 minuti fa sempre un po' fatica, però secondo me sono quelli che quando scendi in campo ti danno anche la dimensione di come è stata preparata una partita, poi il Napoli ha trovato il gol entro i 20 minuti, quindi poi la partita è cambiata, volevo vedere l'atteggiamento del Napoli fino al primo gol, fino allo 0-0. Intanto statisticamente il Napoli è la squadra che tira di più in Serie A, è anche il miglior attacco insieme all'Inter e al Milan con 9 gol segnati. Allo stesso modo il Napoli è anche la miglior squadra in Italia per assist serviti, quindi c'è gioco di squadra da questo punto di vista. Non solo, perché il Napoli è anche la miglior squadra in Serie A per recuperi di palla. Passiamo invece alla Juventus che ha una filosofia totalmente differente e invece è la squadra con più precisione e passaggi, il 90%, ed è pazzesco, è davvero pazzesco, perché fino all'anno scorso eravamo qui a dirci che la Juventus ha veramente poca precisione e passaggi, invece la Juventus è la squadra con più precisione e passaggi e ha avuto anche più passaggi completati in Serie A. Dal punto di vista della qualità della circolazione del pallone nel possesso palla, la Juventus è già la regina d'Italia. La Juventus è anche la miglior squadra per parate perché ne ha dovuto effettuare soltanto 5, a pari merito in realtà, con un'altra squadra che mi ha abbastanza sorpreso, perché non mi aspettavo questo tipo di squadra in questa posizione, cioè il Lecce. Juventus e Lecce sono le due squadre che hanno fatto registrare il miglior impiego da parte dei portieri perché le difese, e comunque quindi tutta la squadra, la fase difensiva della squadra, ha retto molto molto bene. In realtà, se per la Juventus stiamo parlando della migliore difesa di Serie A perché non ha ancora subito gol, anche il Napoli in realtà è un'ottima difesa. Anche se so che fa strano dirlo perché in quattro giornate hanno subito quattro gol, però ad onore del vero dobbiamo cercare anche di ragionare su quella che è l'avventura del Napoli fino adesso, e cioè un esordio amaro, 3-0, sconfitta, pesante, in trasferta, a Verona contro l'Ellas, quindi significa che tolta quella partita il Napoli ha subito soltanto un gol in tre partite. Poi non puoi togliere una partita, fa parte ovviamente del Calderone, però non significa che il Napoli ha subito gol in tutte le partite, anzi, un paio di volte ha mantenuto la porta inviolata con un clean sheet e soltanto in un'altra occasione ha subito gol. Il Napoli ha avuto delle difficoltà, dobbiamo parlarci chiaro, perché a parte la partita con l'Ellas indubbiamente, però se la Juve ha avuto delle difficoltà anche lei, anche il Napoli contro il Parma ha vinto una partita in maniera molto roccambolesca, dettata fortemente da degli episodi. Quindi sono due squadre che in questo momento stanno molto bene, tant'è che sono nelle primissime posizioni della classifica di Serie A. Non sono due squadre perfette, non possono essere due squadre perfette, perché il progetto sportivo è appena partito per entrambe, però sono due squadre che stanno raccogliendo degli ottimi risultati. Quindi abbiamo una vera e propria filosofia differente a confronto, perché stiamo parlando della qualità difensiva della Juve, del suo palleggio, del suo possesso palla pulito contro i recuperi, contro l'intensità e contro le ripartenze del Napoli. Questa sarà la partita che andremo a vedere. Intensità credo che sia un po' la parola chiave, con Antonio Conte non potrebbe essere altrimenti. Io poi devo essere onesto, per la tipologia di gioco che preferisco, a me piace molto più il recupero, intensità e ripartenze. Però per questo weekend mi auguro che il possesso palla e la qualità del palleggio possa essere la soluzione migliore. Ma attenzione perché il Napoli sa anche palleggiare bene, con qualità, con dei passaggi di prima, però una volta recuperata palla il Napoli ha in testa principalmente una e una sola cosa. Appunto, in questi 20 minuti, primi 20 minuti della partita con il Cagliari, anzi vi invito a andarveli a vedere anche voi, prendetevi questi 20 minuti, entrate all'interno di Dazon, se avete Dazon, di Sky, se avete Sky, se c'è su Sky, non lo so, Cagliari e Napoli. Ma andatevi a rivedere i primi 20 minuti. Cosa faceva il Napoli? Recupera la palla, prima per recuperare in Serie A. E che cosa fa? Dritto, su Lukaku, che sia Buongiorno, che sia Di Lorenzo, che sia Rachmani, che sia Anghissà, che sia Lobotka, che sia Meret. Dritto a cercare Romelu Lukaku, la prima fonte di gioco del Napoli, è guadagnare metri con il lancio lungo su Romelu Lukaku, che spalla la porta, apre gli alettoni, va in uno contro uno con il difensore di riferimento, nel caso del Cagliari era Gerry Mina, hanno fatto veramente una lotta all'ultimo sangue, mette giù il sederone e va a far la sponda per creare spazio per i compagni che arrivano a rimorchio. È il modo di giocare che uso io, sono un attaccante esattamente con quelle caratteristiche, pochi gol, ma tanto gioco di sponda per la squadra, quindi Romelu abbiamo qualcosa in comune, anche se la statistica interessante nei confronti del Napoli, secondo me, è quella che riguarda i gol fatti e i gol subiti, non tanto numericamente, quanto più nelle percentuali di tempo, perché il Napoli nei primi 30 minuti non ha mai preso gol. Mai. Nei primi 30 minuti il Napoli è imbattuto. Principalmente il Napoli va a subire nel secondo tempo. In realtà dai quattro gol subiti abbiamo l'ultimo quarto ora del primo tempo, il primo quarto ora del secondo, il pezzo intermedio del secondo tempo e gli ultimi 15 minuti. Quindi questa è la suddivisione dei gol subiti dal Napoli. Viene da pensare che l'attenzione difensiva del Napoli vada a calare con il passare del tempo, ma attenzione, parlo di attenzione difensiva, non di intensità, perché dei nove gol segnati invece dal Napoli ben sette sono arrivati negli ultimi 30 minuti. Quattro gol nell'ultimo quarto d'ora e tre gol nella fase intermedia di secondo tempo. Quindi attenzione perché il Napoli è una squadra che negli ultimi minuti va a caricarsi. Probabilmente si sbilancia un po' di più, si alza un po' di più, mette da parte un po' di attenzione difensiva per massimizzare la produzione offensiva. Loro crossano tanto, veramente tantissimo. E infatti credo che bene o male il riferimento di questa partita possano essere gli esterni, perché sicuramente il Napoli sugli esterni va a fare tanta tanta partita. E adesso andiamo a vedercela anche un attimino sulla lavagnetta tattica, ma ovviamente quello che deve fare la Juventus è cercare di limitare il raggio d'azione di Romelu Lukaku. Sono andato a prendermi quella che è la formazione titolare del Napoli contro il Cagliari. Bene o male la formazione, tipo mi viene da dire l'unico ballottaggio potrebbe essere quello tra Apolitano e Neres, David Neres, però siamo lì. Siamo lì. Per il resto una formazione abbastanza standard del Napoli che è quella che mi aspetto di vedere sabato contro la Juventus, anche perché il Napoli non ha impegni settimanali, quindi ha la possibilità di dare continuità allo stesso 11 titolare. Cosa succede? Che Di Lorenzo fa il braccetto, il difensore della difesa 3, tra l'altro Di Lorenzo ha già quotato due gole del capocannone del Napoli al pari di Lukaku, di Guara, eccetera, eccetera. Anche se fortuito il gol che ha sbloccato l'incontro con il Cagliari, però questo è. Lo stesso Buongiorno ha già segnato, quindi comunque i difensori sono parte integrante del gioco di Antonio Conte, anzi Buongiorno Di Lorenzo, spesso volentieri si staccano, escono dal terzetto e vanno anche in attacco, non hanno problemi a fare questa cosa. Guara e Politano sono importanti perché Conte chiede a loro di stringere e quando loro stringono hanno la possibilità di lasciare spazio a Spinazzola e Mazzocchi. In questo caso il Napoli va a impostare con il 3 più 2, solito che è la stessa cosa che abbiamo visto tante volte anche con l'evento di Agomotta, semplicemente noi abbiamo un terzino cambiaso che entra dentro il campo e vanno ad alzarsi gli altri, il Napoli è già impostato sulla difesa 3 e quindi va semplicemente ad alzare gli esterni e ovviamente quindi le due mezze punte, i due giocatori sulle linee del Napoli, quindi Guara, Politano, Guara, Neres, quelli che saranno, dovranno stringere molto. Lobotka e Anghissà sono un centrocampo completo, un giocatore fisicamente imponente come Anghissà e un giocatore tecnico e di impostazione come Lobotka. E poi ovviamente c'è Romelu Lukaku, quindi la differenza è che tante volte abbiamo anche Chiwara o Politano che vanno lì, allora gli esterni dovranno stringere un po' di più, però è ovvio che sia Spinazzola che Mazzocchi sono giocatori che adorano più l'ampiezza. E quando la palla è su Lukaku, quindi tante volte abbiamo Meret su Lukaku, Raimane su Lukaku, Anghissà su Lukaku, cosa succede? Che Lukaku rimane più alto a lottare uno contro uno col difensore e poi abbiamo questi giocatori che arrivano tutti a rimorchio e quindi il Napoli va ad alzarsi in questo modo qui. Quando noi abbiamo la possibilità di arginare Lukaku, secondo me abbiamo la possibilità di togliere un buon 70% di struttura di gioco del Napoli. Quindi i duelli principali di questa gara saranno Lukaku contro il difensore di turno. Chi sarà? Interessante. Questa sarà molto interessante. Perché la Juventus gioca con una difesa 4. Quindi ci sarà un difensore che dovrà scegliere di andare su Lukaku. Sarà Bremer o sarà Gatti? Storicamente mi verrebbe da dire meglio Bremer che è in grado di mettersi in tasca giocatori di questo tipo. Però per quella che è la partenza di Gatti di questo campionato non sarei stupito di vedere lui andare direttamente in marcatura su Lukaku. Bisogna capire se Gatti sta bene. perché ha avuto quella piccola distorsione alla caviglia in occasione del match di Champions e quando vi dico che avere la libertà in settimana è un vantaggio ve lo dicevo anche l'anno scorso e anche per queste cose qui i giocatori possono banalmente stancarsi o farsi male durante l'impegno settimanale mentre il Napoli avrà gli stessi effettivi che ha avuto contro il Cagliari perché al termine di quella partita possono al limite farsi male in allenamento ma è più facile farsi male in partita dove l'intensità è ovviamente di un certo tipo quindi sarà interessante capire Bremer o Gatti e se Gatti ce la farà quindi non lo so io se dovessi spendere un euro immagino più Bremer nell'uno contro uno con Lukaku anche perché l'ha già fatto conosce il calciatore eccetera eccetera però questa bene o male è la linea guida su come affrontare il Napoli di Conte e bene o male queste sono le statistiche principali di quella che sarà la partita quindi io mi immagino una gara complessivamente con pochi gol e che statisticamente per i gol che subisce il Napoli e per i gol che fa il Napoli negli ultimi 30 minuti che possa sbloccarsi in quell'arco lì quindi una gara un po' più tranquilla in cui gli avversari si studiano in cui gli avversari si limitano a vicenda poi ovviamente l'episodio può generare il vantaggio da una parte o dall'altra però una gara un po' più tranquilla e combattuta perché sarà una lotta non tranquilla noiosa tranquilla nel senso che non vedremo tanti gol ma sarà una lotta vera e propria perché se non mantieni il livello di intensità del Napoli ti mangia questo è poco ma sicuro e che poi negli ultimi 30 minuti col Napoli che va a scoprirsi un po' di più e quindi cerca di andare in vantaggio la Juve che cercherà di difendersi ma anche di crearsi gli spazi per ripartire ecco che lì potrebbe arrivare il gol dell'1-0 e secondo me se questa gara si sblocca intorno al trentesimo minuto del secondo tempo allora può anche diventare una gara un po' più aperta dal punto di vista del risultato dei gol segnati dei gol che vedremo in generale questa è un po' la mia analisi noi ci vediamo oggi pomeriggio se ci saranno delle parole importanti di Nico Gonzalez da commentare ma intanto nel frattempo vi invito a lasciare il vostro commento qui sotto nell'apposita sezione a iscrivervi al canale a mettere like al video e io vi ricordo che ho un secondo canale che ormai è già partito da un po' di tempo e c'è anche un terzo canale che è un canale di archivio in cui vado a ricaricare dei pezzi di live che faccio su Twitch dove affrontiamo argomenti estranei al calcio estranei alle mie passioni che possono essere legate a One Piece Magic e roba del genere generali robe generali vi invito a fare un salto perché sono già stati caricati i primi due video in questi giorni e adesso arriverà anche il terzo ciao a tutti ragazzi e forza aiuta grazie a tutti